La via della fede Attraverso questo edificante contenuto, Dio ci benedice generosamente, riempiendo le nostre vite di innumerevoli benedizioni. Tuttavia, non sempre è facile comprendere il piano divino. A volte, sentiamo che i nostri desideri sono rifiutati, ma in realtà, Dio ci sta guidando verso qualcosa di ancora più grande, qualcosa che ancora non possiamo immaginare. È in questi momenti che dovremmo chiedergli la forza necessaria per superare le difficoltà e fidarci che i Suoi disegni sono perfetti. Con un profondo legame con Dio, impariamo ad affrontare tutte le battaglie con l'arma potente della preghiera. Quando ci avviciniamo al divino attraverso la preghiera, troviamo forza, coraggio e vittoria nelle nostre sfide quotidiane. Non c'è lotta che non possiamo vincere con la presenza divina al nostro fianco. Dio ci sta preparando per trionfi ancora più grandi. Man mano che ci aggrappiamo alla fede, siamo elevati di fronte a coloro che speravano nella nostra caduta. Questa promozione divina non è solo vanità, ma il riconoscimento che siamo stati fedeli e perseveranti nel nostro viaggio di vita. Quando affrontiamo momenti di incertezza, possiamo contare sulla preghiera e sulla supplica per consegnare le nostre preoccupazioni a Dio. In segno di gratitudine, offriamo il nostro giorno del ringraziamento, riconoscendo la sua presenza costante e il suo amore incondizionato. Le parole di Dio risuonano nei nostri cuori, portando una pace che trascende la comprensione umana. Questa pace, diversa da quella offerta dal mondo, ci guida attraverso le avversità, ci libera dalla paura e ci permette di affrontare le sfide con serenità. Dio è ovunque, pronto ad ascoltarci ovunque ci troviamo. Le sue benedizioni sono illimitate e la sua misericordia non conosce confini. Perciò, ci fidiamo che, anche nei momenti più difficili, Egli ci guiderà con amore e cura. Il nostro viaggio con Dio ci porta a scoprire che, a volte, ci guida su percorsi sconosciuti, regalandoci ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Impariamo a fidarci del suo piano, poiché sappiamo che ci porterà a realizzazioni al di là di quanto possiamo immaginare. Infine, invito tutti a esprimere la loro fede scrivendo Amen nei commenti e ad iscriversi a questo canale benedetto, in modo da poter essere continuamente ispirati dalle parole di Dio e condividere le sue benedizioni con il mondo intorno a loro. Vivere in comunione con Dio è un'esperienza meravigliosa e trasformativa, e desidero che tutti possano sperimentare questo viaggio di amore, pace e pienezza. Che ogni giorno sia illuminato dalla luce divina e che i nostri cuori siano colmi di gratitudine per la sua presenza costante nelle nostre vite.